Grazie a tutti. Al dono della divina volontà che è giunto ad alcuni passaggi cruciali, anche perché ci avviamo verso il termine di questo ciclo di catechesi che dovrebbe a Dio piacende concludersi entro la fine del mese di giugno, quindi non abbiamo ancora moltissimo tempo. E ci stiamo occupando di un tema importantissimo nel senso che la potenza del divin volere è una grande, chiamiamola così, santa bomba atomica a nostra disposizione per ricostruire le nostre esistenze ferite, lacerate o distrutte, oppure semplicemente per rifare tutti gli atti della nostra esistenza, sono certamente numerosi, che non sono stati fatti nel divin volere. Noi teniamo presente che il parametro, il punto di riferimento essenziale per comprendere questa tematica è la vita terrena di Gesù e di Maria. Proprio nella meditazione di questa mattina si rifletteva sul fatto che solo la Madonna ha fatto la volontà di Dio come Dio vuole, cioè come la fa Dio, non solo come Dio vuole, no? E tra le pure creature. Evidentemente lo stesso discorso vale con Gesù e questo significa che non c'è stato nessun atto, nemmeno un atto inconscio, involontario nella vita della Madonna che non fosse di divina volontà e nella divina volontà. La stessa cosa vale per ciò che ha fatto Gesù. Sappiamo anche che loro non sono stati contenti di offrire al Signore una esistenza perfetta a titolo individuale, cioè la vita di Gesù tutta fatta nella divina volontà, la vita della Madonna tutta fatta nella divina volontà, è chiaramente spettacolo da offrire a Dio. Già sarebbe stato tanto, ma sarebbe stato per loro poco. Nel divinvolere, in quel punto unico del Fiat Supremo che abbraccia tutto il tempo e tutta la storia, trascendendolo, loro hanno anche rifatto uno per uno, in virtù della potenza bilocativa e generativa del Fiat che ha la possibilità di moltiplicarsi all'infinito, quindi hanno rifatto tutti gli atti di tutti gli uomini di tutti i tempi, dall'istante del concepimento fino all'ultimo istante della vita terrena. Quindi, come dire, e che cosa hanno fatto? Hanno fatto gli atti di una vita così come sarebbe stata se fosse andata, esattamente così come Dio l'ha voluta. Capite? Perché nonostante il peccato originale, ci dice l'Apostolo San Paolo, attenzione a queste cose, non sono favolette campate in aria, insomma, ecco, sono tutte quante, come tante volte ho detto, biblicamente fondate e blindate. Cioè, San Paolo dice che gli uomini sono stati scelti in Cristo prima della creazione del mondo per trovarci al cospetto di Dio, santi e immacolati nell'amore. Santi e immacolati nell'amore, predestinandoci ad essere sui figli adottivi. Significa che la mia vita personale scorre perfettissima in ciò che Dio aveva pensato per me. Purtroppo, ciò che Dio aveva pensato per me, e attenzione, ciò che Dio aveva pensato e ciò che Gesù e Maria hanno provveduto a fare per me, non è la stessa cosa, ahimè, di quello che ho fatto io. Ecco, per cui tutta la nostra fatica sarà di cercare di presentare al nostro Signore un impiastro un po' meno obrobrioso, il meno obrobrioso possibile. Ecco, ma non certamente il capolavoro che lui ha pensato. Ora, noi ci troviamo per esempio oggi, quando una persona si converte, adesso lasciamo per un attimo da parte, come piccola parentesi, nuovamente introduttoria, un discorso di una volontà, una persona si converte e ha un passato e un futuro. Quello che sicuramente non possiamo, non siamo padroni del nostro passato, noi siamo padroni del nostro presente e del nostro futuro, perché, come dicevo la volta scorsa, non abbiamo il nastro reverse, cioè quello che esiste sui vecchi registratori, sulle vecchie bobine, d'accordo? Esiste adesso sui nostri strumenti digitali, quindi vai su YouTube, scorri indietro il cursore e ti rivedi il video dall'inizio. Ma nella vita non ci sono cursori che fanno all'indietro. Quindi, come accennavo la volta scorsa, quando uno si ritrova con degli atti disordinati, deve fare il possibile, per quanto può, scusate ma oggi è una giornata un po' delicata, per ripararli, quindi per ripararli, cioè per rimetterli, e per quanto possibile, per riaggiustarne le conseguenze. Più di questo non si può fare, perché non possiamo tornare indietro. Ecco, e a volte si fanno delle preghiere, come dire, ne ho parlato in altre catechesi, possono fare delle preghiere di guarigione, di liberazione, si può fare qualche invocazione dello Spirito Santo, benedizioni, alberi genealogici, tutto quello che uno vuole, per cercare, per quanto possibile, di riaggiustare, risanare, metterci il più top possibile, cercare di portare nella potenza risanatrice del Signore quanto più possibile della nostra esistenza. Più di questo, ecco, non si può fare, ordinariamente. Però, ecco che qui si situa il dono della Divina Volontà, perché se io so che la mia vita, la mia vita, e attenzione, la mia, così come la tua, quella di qualunque persona che sta ascoltando, adesso, via radio, in diretta, o che ascolterà questa catese indifferita, non si sa quando, chiunque comunque l'ascolti, sa che la sua vita è stata pensata da Dio come un prodigio, d'accordo? E che tutti i miei atti sono stati rifatti da Gesù e da Maria, nella Divina Volontà. Tutti, nessuno escluso. Questi atti sono a mia disposizione, nel senso che, come attraverso un atto di volontà, quindi un esercizio spirituale, che nella vita di Dio Involere l'abbiamo già imparati a fare, d'accordo, che sono i giri, è possibile fare nostre tutte queste operazioni fatte già da Gesù e da Maria, e quindi dal momento che, certamente, allora, io non ho il tasto reverse del tempo, ma nell'eternità, dove si trova il Fiat Supremo, il tempo non c'è, d'accordo? Ecco perché si dice che gli atti fatti nel Divina Involere, se si prendono gli scritti, adesso qui ormai siamo abbastanza avanti, quindi io invito chi avesse difficoltà a intendere queste cose, purtroppo non ha altro che fare, che cercare di riascoltarsi le catechesi precedenti, no? Un atto nel Divina Involere, è, come dire, ridonda a gloria anche dei beati del Paradiso, diciamo, questo perché è un atto fuso con il Fiat Supremo, che è eterno, d'accordo? Quindi, potendoci connettere con questo eterno, è evidente che diventa possibile fare questo tipo di operazione. Quali sono gli effetti che produce questo tipo di operazione? Se qualcuno li sapesse descrivere, sicuramente meravigliosi, sicuramente, sicuramente, perché spiegavo la volta scorsa, che quando noi ci confessiamo sulle pagine con gli strafaccioni ci mette il nostro Signore il bollino, come cancella l'errore, ci mette il bollino, misericordia, d'accordo? Le cose che abbiamo rovinato possiamo con la penitenza e con la preghiera e con lo sforzo ripararle per quanto possibile. Ma qui abbiamo la possibilità che una pagina sia riscritta, ecco, ci sono da riscrivere delle pagine, d'accordo? Della nostra esistenza. E' un esercizio interiore, d'accordo? Sicuramente male non fa, d'accordo? Quindi, perché avesse qualche tipo di problema lo sentiremo poi, no? Male non fa. E' una modalità di agire, di operare e di pregare che si impara in questa vita. Nel senso che non è che Luisa, come io pensavo, non ha detto niente di nuovo. Luisa ha detto a insegnare. Cioè Gesù ha insegnato qualcosa di nuovo, se no che ci sarebbe a fare. E non solo, un qualcosa di nuovo che è inedito a quello che dice Gesù. Nel senso che in questi termini, in questa forma, non ha precedenti. Quindi è nuovo, d'accordo? Sotto questo punto di vista. Non ha niente. Attenzione, vorrei un attimo ripuntualizzare una cosa, d'accordo? Vorrei un attimo ripuntualizzare, perché ogni tanto mi arriva qualche informazione alquanto imperfetta. Nel 1994, 1-9-9-4, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha dichiarato che negli scritti di Luisa non c'è niente di contrario alla fede cattolica. Questo non significa averne riconosciuto, ma è già tantissimo, nel senso che chi segue quello che sta scritto qui e non svalvola col cervello non può uscire fuori dalla sana dottrina cattolica, d'accordo? Ecco, siccome io sono un sacerdote, d'accordo? Un sacerdote che ha sempre cercato di essere il più fedele possibile al Magistero della Chiesa, alla sana dottrina, forse anche troppo, chi mi conosce ben lo sa, questo è proprio una mia caratteristica deontologica, io mai mi azzarderei e mi permetterei di fare qualche cosa che anche minimamente mi possa portare lontano o dalla sana dottrina o dalla comunione con la Santa Madre Chiesa Cattolica sotto tutti i punti di vista. Non l'ho mai fatto e non lo voglio fare. Ecco, quindi facciamo queste premesse prima di proseguire il discorso. La volta scorsa abbiamo cominciato a leggere uno scritto che è propedeutico, diciamo così, che ci fa comprendere e ci siamo fermati a metà. Diciamo che il discorso fatto la volta scorsa era fondamentalmente vertente su cui il titolo di questo paragrafetto che è 18 dicembre 1933 che oggi riprendiamo concludiamo e poi cominciamo proprio a entrare si spera nel merito e nello specifico è come la creatura è stata formata da Dio ab eterno amata con eterno amore e come l'umana volontà è lo scompiglio delle opere del suo creatore. Quello che vi ho detto che è radicato in quello che San Paolo dice abbiamo visto nella scorsa puntata io rileggo senza commentare la parte di scritto che abbiamo letto parte della parte di scritto che abbiamo letto e commentato la volta scorsa che dice così allora vedrai dove chi come quando ho formato ogni creatura quindi dove dove sei stato formato tu ed io nel seno eterno di Dio e chi mi ha dato origine a me ecco perché noi non possiamo mai disprezzare né noi stessi né nessuna creatura chi mi ha dato origine a me Dio Lente Supremo come attenzione perché qui la grande cosa è il come come siamo stati creati lui stesso attenzione formava la serie dei suoi pensieri il numero delle sue parole l'ordine delle sue opere il moto dei suoi passi ed il continuo palpitare del suo cuore ci sono già Gesù e Maria nella vita terrena sono andati a prendere a loro volta questi atti che già c'erano ok e li hanno fatti propri e li hanno offerti a noi li hanno rifatti per noi sicché Dio le dava tale bellezza ordine d'armonia da poter trovare lui stesso nella creatura con tale pienezza che essa che essa non troverebbe posto da mettere alcun che di suo che non gli era stato messo da Dio cioè se noi avessimo fatto questo saremmo talmente belli tutti da essere completamente divinizzati ma di una bellezza veramente sovrumana come quella della Madonna uguale attenzione con il proseguo qui noi nel guardarla restavamo rapiti che nella piccola cerchia umana la nostra potenza verrà chiuso il nostro operato divino e nella nostra enfasi d'amore dicevamo quanto sei bella opera nostra tu sei am te am me tu sarai la nostra gloria lo storno del nostro amore il riflesso della nostra sapienza l'ego della nostra potenza lo portatese del nostro eterno amore questo film per ora ci ha avuto una prima d'accordo una che è la divina Maria molto presumibilmente ecco è uscito prima sala cinematografica è stato e Gesù l'ha rivisto avendo stavolta come Starling Luisa Piccarreta d'accordo sicuramente lei ha rifatto i suoi atti e ha cominciato a un certo punto a fare solo atti divini e l'amavamo con amore eterno senza principio e senza fine e quando veniva formata questa creatura in noi ab eterno perciò essa nel tempo non esisteva ma nell'eternità è esistita sempre aveva il suo posto in noi la sua vita palpitante l'amore del suo creatore io lo capisco ragazzi qui si entra in un orizzonte divino è come quando si studia Trinitaria cioè ma del resto cioè c'è la vita nella divina volontà è una vita divina e qui tocca fare un po' di sforzo per quanto a mente umana è possibile di entrare in un orizzonte divino l'orizzonte divino è l'orizzonte dell'eternità non è l'orizzonte del tempo d'accordo sicché la creatura è stata sempre per noi il nostro ideale il piccolo spazio dove svolgere la nostra opera creatrice il poggio della nostra vita lo sfogo del nostro eterno amore ecco perciò tante cose umane non si comprendono non sapeste quante non si sanno spiegare perché c'è l'operato dell'incomprensibile divino ci sono i nostri misteriosi arcani celesti le nostre fibre divine per cui noi soli sappiamo i misteriosi segreti i tasti che dobbiamo toccare quando vogliamo fare cose nuove ed insolite nella creatura e siccome non conoscono i nostri segreti ne possono comprendere i nostri modi incomprensibili che abbiamo messo in una mano natura giungono a giudicare a modo loro e non sanno darci ragione di ciò che noi andiamo operando nella creatura mentre l'uomo è obbligato a piegare la fronte a ciò che lui non comprende e ci siamo fermati qui la volta scorsa con delle bellissime con queste bellissime considerazioni cioè queste robe che Dio ha fatto queste operazioni che Dio ha fatto e quello che lui fa è roba divina le robe divine sono molto poco comprensibili quasi per niente quasi per niente sono misteriosi segreti e non si comprendono stupenda per me la tua saggezza dice il bellissimo salmo 138 troppo alta e io non la comprendo dove andare lontano dal tuo spirito dove fuggire dal tuo volto se salgo in cielo la tua sede scendo negli inferi eccoli capite le mie vie non sono le vostre vie i miei pensieri non sono i vostri pensieri tanto i cieli sovrastano la terra quanto le mie sovrastano le vostre vie i miei pensieri i vostri pensieri dice il profeta Isaia capitolo 55 eccetera no? ecco allora quindi attenzione la prima parte dello scritto era bella questo è quello che Dio ha fatto e pensato questo è quello che avrebbe dovuto essere per tutti allora e che cosa è andato a succedere invece poi che film ha visto il nostro signore non si sa quanti migliaia di anni se c'è una cosa che sicuramente non piace il nostro signore sono i film dell'orrore perché c'è nata talmente una tale nausea che ne ha visti talmente tanti brutti quanto la fame che mi perdonerà insomma per farmi capire che sicuramente non ne può più manco lui d'accordo hai visto due tre film certamente capolavori proprio quindi il film è di Gesù il film è di Maria d'accordo il film è di Ulisa speriamo che dopo Ulisa ne abbia visto qualcun altro io mi auguro vivamente che qualcuno gli abbia già fatto vedere qualche bel film nella divina volontà lo spero ne me ne rallegrerei immensamente d'accordo intanto tantissimo lo speriamo ma speriamo ecco questa operazione servirà anche a far vedere al nostro signore il film della nostra vita è rifatto avete visto i remastered però qua non è semplicemente un remastered non è semplicemente un riandare a ridigitalizzare o trasformare in HD o una pizza degli anni 50 insomma qui è proprio rivarlo il film cioè perché nel senso che alcune scene non sarebbero mai dovute essere viste e quindi tocca proprio rifare ampie parti del film se non rigirarlo da capo di nuovo proseguo la lettura e questo è nuovo quindi diciamo che la puntata odierna comincia da qui ora chi non ha la nostra volontà mette in disordine tutti gli atti nostri ordinati a beterno nella creatura oh perciò si sfigura e forma il vuoto dei nostri atti divini atti divini formati e ordinati da noi nell'umana creatura vi invito a considerare i termini uno disordine nella volontà di Dio il disordine non c'è la volontà di Dio è ordine supremo noi mettiamo tutto quanto in disordine vuoi vedere il disordine uno dei distintivi del demonio prendi la camera butta tutto per aria quando vanno i ladri dentro una casa che succede entra lì dentro quello è il disordine quello è quello che fa la nostra volontà in relazione alla perfezione assoluta che Dio aveva già pensato per noi e perciò ancora si sfigura si sfreggia noi la cosa bella che qui si impara però è già a mio avviso contenuta nel concetto di peccato quindi almeno se uno capisce bene che cos'è il peccato è che tu col peccato ti sfiguri diventi un mostro sarebbe come se uno fosse così un pazzo che prendesse l'acido muriatico se lo buttasse in faccia da solo che ti fa diventano un mostro diventa e quando noi ci sfiguriamo non sono affari nostri capito i peccati non sono affari nostri ma a me non me ne importa niente ma te ne importa come perché se tu diventi un mostro e chi ti sta vicino te vede d'accordo non è solo una forza a meno che non ti chiudi dentro 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 quattro mura ne esci mai e sfigurarti e perché io mi danno a vedere un mostro davanti perché che diritto hai tu di farti vedere mostruoso davanti al prossimo che è e te vede pure il padre eterno te vede pure l'angelo custode cioè la nostra vita non è che noi siamo delle meteore ma anche se mi chiudo dentro quattro mure e non mi vede il prossimo ma il padre eterno mi vede e l'angelo custode mi vede voi sapete che i santi quando ci credevano erano molto modesti nel decoro esteriore ecco chi può capire capisca pure dentro la camera loro pure dentro la casa non è che io di notte scusate eh mo' si come se mi cre... mo' si muore di caldo e dormo nudo di notte i santi non l'abbero mai fatto perché? perché non ho capito perché il mio angelo custode che è che è che è che è che è che è questo spettacolo d'accordo ecco mi metto i rodenti leggeri mi metterò mi metto certamente una pecora addosso d'estate ma non dormo nudo perché mi metterà l'angelo custode questo lo dicevano i santi questo qui eh d'accordo non lo dice non lo dice figuriamoci che adesso se non importa niente manco cioè anche questa mancata attenzione cioè oggi non è che uno si tratta di di dipendere dal giudizio delle altre persone però un minimo insomma no? se tu vai in giro ma è nudo non è chi sarebbe e chi mi dice io vanno in giro nudo vanno in giro nudo e se qualcuno ci ha guardato mi è girato dall'altra parte ma che discorso è questo qui? che discorsi sono? discorsi tipici di una cultura di una mentalità che ha completamente perso il senno quando si esce dalla mia volontà si sfigura si diventa dei mostri si forma il vuoto degli atti divini questa è una spessione tecnica negli scritti di visa il vuoto d'accordo cioè tu c'hai una cosa e vum c'è un barato non c'è non c'è non c'è più niente quali sono gli atti che erano stati formati e ordinati da noi nell'umana creatura formati e ordinati già pronti attenzione noi amavamo noi stessi in essa questo se uno legge il dialogo della divina proprovvidenza è spettacolare di Santa Caterina dice oh signore quanto è grande la tua potenza e quanto si manifestò quando tu guardando la creatura hai guardato te stesso nella creatura e ti sei innamorato di te stesso nella creatura cioè questo noi dobbiamo capirlo cioè Dio è talmente bello che in senso stretto si può innamorare solo di se stesso cioè Dio per esempio era tanto innamorato della Madonna non ci deve scandalizzare perché la Madonna era fusa con la divina volontà d'accordo capite quindi abbiamo fatto la festa della Santissima Trinità le tre persone divine si amano infinitamente nel amore eterno perché sono sommamente amabili non c'è niente di amabile di bello quanto la divinità capito quindi cos'è che Dio può amare al massimo grado se stesso ecco perché ci ha creato nella divina volontà ecco perché ci aveva fatto il dono della divina volontà ecco perché tutti quanti i nostri atti sono già stati fatti nella divina volontà da lui stesso perché Dio che cosa trova di bello fuori di sé il fuori di sé è un'uscita come dire parziale della sua bellezza sempre limitata d'accordo ecco allora noi avevamo noi stessi in essa la serie dei nostri atti formati dal nostro puro amore e mettendola fuori nel tempo la volevamo come attenzione concorrente a ciò che noi avevamo fatto attenzione la creatura deve concorrere un concorrente d'accordo cioè sta attivamente impegnata quindi cosa significa vuol dire che questo che Dio ha fatto per lei deve farlo proprio come ha fatto la Madonna e mettersi in questo giro d'accordo mettersi in questa vita mettersi in questa dinamica direbbe il mio caro amico Frappio mettersi in questa dinamica lo può fare e lo può non fare proseguo ma per avere questa abilità la creatura ci voleva la nostra volontà che dandola la sua virtù di fine attenzione le faceva fare nel tempo ciò che si era fatto da noi senza di essa nell'eternità ripeto le faceva fare nel tempo ciò che si era fatto da noi senza di essa nell'eternità ok questo significa vivere nella divina volontà d'accordo fare nel tempo ciò che la divinità nell'atto in cui ci ha creato e pensato cioè ab eterno ha già fatto e ordinato per noi in sé ne c'era nessuna meraviglia se l'essere divino l'aveva formata nell'eternità lo stesso volere divino confermava e ripeteva nel tempo cioè continuava la sua opera creatrice nella creatura ma senza la mia volontà divina come può elevarsi conformarsi unificarsi rassomigliarsi a quegli stessi atti che noi con tanto amore abbiamo formati ed ordinati in essa ed ecco la tragedia quindi la volontà umana non fa altro che scompigliare le nostre opere più belle spezzare il nostro amore svuotare le nostre opere le quali rimangono in noi perché noi nulla perdiamo di ciò che abbiamo fatto questa è proprio una scena da contemplare cioè tu devi vedere il nostro signore tu c'hai la tua vita lui c'ha il regalo della tua vita meravigliosa che è in lui tu te lo dovresti prendere ma non lo vuoi rimane in lui cioè Dio se ritrova a mano con questa cosa e poi se si affaccia vede a te e dice ma che è sta roba certo lui nulla perde di quello che ha fatto ma non vede quel dono valorizzato diciamo così e produttivo di quei frutti di quegli effetti per cui era stato fatto e che cosa ci resta a noi tutto il male resta per la povera creatura perché sente l'abisso del vuoto divino le sue opere sono senza forza e senza luce i suoi passi sono vacillanti la sua mente è confusa e ripetiamo ripetiamo tutto il male resta per la povera creatura sente l'abisso del vuoto divino quando noi ci sentiamo proprio quel vuoto pazzesco quando ci sarà capitato di stare lontani da Dio uno si sente proprio quel vuoto orribile le opere senza forza e senza luce c'è ovvio che fa niente svogliato il proprio fallo fa malamente i passi vacillanti la sua mente confusa quando c'è la confusione il nostro cervello non si capisce più niente cosa significa che dentro di te regna l'umana volontà ma proprio regna proprio regna sul suo trono come quel canto bellissimo del rinnovamento che a me piace tanto che però è attribuito al nostro signore cioè vuoi questo? ecco qua vuoi questo? ecco qua ragazzi qui non ci stanno vie di scampo e non facciamoci illusioni chi vive di volontà umana vive questo e se tu ci pensi con attenzione mentre ascolti queste cose senza pregiudizi senza prevenzioni senza sta a pensare a Luisa Nicoletta o Margherita non fa niente cioè gli strumenti contingenti sono del tutto indifferenti Luisa è semplicemente il nulla c'è capitata lei e dico di più perché l'ha detto lei stesso la Madonna è semplicemente il nulla c'è capitata lei e la Madonna questo lo ha detto e io ricordo benissimo quel passo negli scritti di Maria Valtorta che i pianti che mi ci sono fatto che dice che lei passa l'eternità ad umiliare davanti a Dio il suo nulla dicendogli dice ma signore mio ma tra tante anime che hai creato miliardi cioè io mi ritrovo cioè io sono madre di Dio cioè è l'anima mia che è stata fatta per questo cioè perché noi abbiamo comunque una come dire una individualità una personalità io tante volte mi sono trovato a dire dico ma signore ma tu mi hai fatto diventare prete a me mica sono tutti i preti sul pianeta della terra e io che ho fatto per questo qua niente non ho fatto niente non me lo merito capite quindi uno deve per forza che resta così capite quindi lo strumento non fa niente ma se uno ascolta queste parole lascia perdere facciamo pure finta che non l'ha detto il nostro signore prova a pensarci quando tu fai la tua volontà ti ritrovi questo in mano l'abisso del vuoto opere senza forza e senza luce passi vacillanti mente confusa quando uno sta confuso capisce niente è così sicché essa resta senza la mia volontà sentite ancora come un cibo senza sostanza come un corpo paralizzato come un terreno senza coltivazione come un albero senza frutto come un fiore che manda cattivo odore e sentite che dice oh se la nostra divinità fosse soggetta alle lacrime rimpiangeremmo amaramente colei che non si fa dominare dalla nostra volontà Dio non piange in senso stretto ma starebbe a disperarsi se potesse farlo ma sai che significa disperarsi però io vi posso dire nel mio piccolo vi assicuro da prete non avete idea del dolore che si avverte quando si vede un'anima andare incontro al suicidio spirituale perché tu poi lo sai essendo prete se fa alcune cose se non farà altre cose cosa succede d'accordo e non poterci fare niente io dico un prete degno di questo nome come credo che siano tutti e spero che siano tutti quando sente queste parole dice mamma mia quanto sono vere perché un prete non è Dio certamente d'accordo però lo rappresenta a qualcosa di quella carità cioè a Dio gli dispiace vedere queste cose non è che dispiace per lui lui è felicissimo in se stesso lui è amabilissimo in se stesso non gli cambia niente a lui ma gli cambia a te cioè il motivo per cui Dio ha creato è molto semplice cioè che la perfezione della sua vita della sua felicità l'ha voluta rendere comunicarla renderne partecipe un essere simile a lui ma limitato intelligente per farlo felice solo per questo che ha creato Don Leonardo Maria Pompei che l'ha creato a fa perché Don Leonardo Maria Pompei fosse felice tra felicissimo questa è la nostra sorte d'accordo guardate che in paradiso si fa questo non è che si fa altro e se la terra è diventata l'anticamera dell'inferno a questo non è divina volontà questo se l'abbiamo trasformato noi in questo modo d'accordo e se nostro signore adesso ti offre la chance guarda che l'Eden universale non ritorna ma tu l'Eden puoi farlo ritornare nella tua vita nel tuo cuore vedi tu quello che vuoi fare comunque con questo diciamo finisce il prologo e adesso entriamo nel merito quindi il fondamento di questa operazione è questo è il fatto che Dio abb'eterno nel tempo quando ci ha noi diciamo tecnicamente diciamo tecnicamente ci ha pensato d'accordo perché poi questo è successo anche con la Madonna il linguaggio tecnico è questo qui le nostre vite sono state eternamente pensate da Dio d'accordo attenzione pensate in maniera efficace però quindi con tutto il corredo di tutti gli atti della nostra esistenza ma in effetti guardate il mio caro e amatissimo vescovo che mi ha ordinato Monsignor Petrocchi che sarà nominato sarà creato cardinale con mia somma gioia lo dico pubblicamente a tutti al concistoro che Paolo Francesco ha convocato il 29 di giugno diceva sempre una cosa bellissima quest'uomo a me ha insegnato tantissime cose lo dico tranquillamente pubblicamente non per captazio e benevolenza non è più il mio vescovo e sono contentissimo del mio nuovo vescovo che stimo e che apprezzo e che ammiro quindi così come di qualunque altro ci stesse al posto loro perché ho sempre detto che bisogna legarsi all'ufficio e non alla persona però è chiaro che uno ci abbia dei ricordi Petrocchi diceva queste cose qui non lo so se le hai letto gli iscritti diceva quando noi saremo morti noi davanti al Signore troveremo due vite due vite la nostra vita come Dio l'aveva pensata e la nostra vita come è stata vissuta e diceva facendo esempio tenete le due mani adesso chi sente il radio non le vede io sto davanti ai video le sto aprendo se le mani si trovano così quindi avete visto quando teniamo le mani giunte in modo tale che ciascuna dita ciascun dito è perfettamente sovrapponibile all'altro dito è il palmo pure quindi c'è una combaciano perfettamente abbiamo fatto strike è molto difficile e ci andiamo dritti in paradiso se ci sono delle cose quindi le mani stanno un po' storte quindi non c'è una però capite quanta più superficie diciamo c'è contatto quanto più quando il contatto è proprio minimo te la fate senza quanto purgatorio che ti devi fare perché vuol dire che sei molto distaccato però ancora il contatto se le mani sono staccate eh so guai non voglio dirlo che cosa può succedere ma ci arriviamo se le mani sono staccate cioè che è proprio un'altra cosa cioè tu hai fatto un'altra cosa rispetto a quello che hai pensato di tutto e per tutto senza neanche all'ultimo dirgli signore mio disastro totale abbi pietà perché se gli dici così evviva allora so guai allora so guai allora so guai grossi quindi questo è quello che si dice attenzione quindi noi adesso stiamo dinanzi oh guardate io adesso faccio una faccio una digressione prima di giungere poi agli atti c'è una cosa che io non riesco a comprendere sono un sacerdote credo insomma di avere a cuore spero di avere a cuore mi sembra di avere a cuore il bene e la salvezza delle anime mi sembra che questo l'ho sempre avuto ho certamente commesso sapete dopo un po' di anni di sacerdozio si devono fare tanti esami di coscienze continui per vedere gli errori anche in buona fede commessi però il bene delle persone io in coscienza davanti a Dio posso dire di aver sempre cercato di perseguirlo però c'è una cosa che a me mi provo veramente tanto impressione ed è quella cosa di anzi a cui non ci si può fare niente l'intestardimento l'indurimento l'accecamento della volontà umana che coinvolge anche l'intelletto cioè è pazzesco come alcune situazioni alcune persone alcune storie alcune cose che da fuori si vede benissimo e la persona dovrebbe insomma capire che uno si sta muovendo per aiutarla per il bene insomma che non è che io voglio torturare il prossimo o se le faccio una correzione cioè capito a un certo punto dico io sto facendo delle scelte di vita d'accordo perché poi ognuno ha la propria vita anche io ho la mia vita d'accordo e di cui devo rendere conto al nostro signore e gli indirizzi di vita che noi gli diamo ma se come posso insomma nel meglio modo possibile dico una cosa per il tuo bene ma ascolta no no ecco se la nostra divinità fosse soggettare lacrime e ne piangeremo veramente quella che non si fa dominare dalla nostra volontà questo a me personalmente vedere queste cose mi ha prodotto un tale orrore veramente è una tale come dire santo timore dei guai che io potrei combinare se mi mettessi a fare il pazzo e a fare la mia volontà che ne sento orrore solo a pensarci perché quando negli iscritti oppure nel regno della Vergine Maria nel regno della Dina volontà si usano delle espressioni forti no cioè i scienzi dell'umana volontà le torture che ti causa i disastri che crea è tutto vero è vero ed è tragicamente vero ed è dannatamente vero sarei a dire se si può fare questa espressione dannatamente perché i dannati sono l'emblema del trionfo della volontà propria staccarla da quella di Dio è terribile 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 per cui si ascoltando tante cose a uno gli rimanesse solo questo dice senti almeno vediamo si benedetti dieci comandamenti e qualche cosa almeno in qualche cosa se cerchiamo di evitare di non farla la nostra volontà già sarebbe qualcosa già sarebbe qualcosa d'accordo perché proprio il tasso c'è proprio avete visto quelle quando studiavamo come si chiama la matematica l'algebra le proporzioni sono proprio dei tassi di proporzionalità no volontà umana la bilancia vende lì e salsa disastro volontà divina la bilancia vende lì e salsa perfezione felicità pace quiete cioè non c'è niente da fare è così è così è così ancora più drammatico dipende quando diventa quando l'esperienza cioè perché a volte succede che il nostro signore permette alcuni scivoloni e l'esperienza neanche quella ti aiuta sono misteri grossi sono misteri grossi probabilmente diventano tra le tante cose che abbiamo appena letto in uno scritto che non si comprendono ora andiamo a vedere cominciamo a entrare nel clou gli atti della nostra esistenza ripetiamo il fondamento di questa operazione è lo stesso che si fa nei giri allora cosa si fa anzitutto bisogna fondersi nella divina volontà entrare nel fiat supremo dove il tempo e lo spazio non ci sono più nella coscienza che in questo fiat ci sono tutti gli atti di tutta la mia esistenza voi capite io adesso ho un'età ho quasi 50 anni vogliamo contare che qualcuno si vuole divertire vuole fare questo esercizio no cominciamo a fare le equivalenze quasi 50 anni quanti giorni sono 50 per 365 quanti mesi quante settimane quanti giorni quante ore quanti minuti quanti secondi immaginiamo soltanto in una giornata quanti atti compresi quelli di pensiero possiamo compiere ma pensiamo anche a tutti quanti gli atti per esempio io ora sto parlando sto davanti a un po' di computer e vedo che ovviamente come tutti gli esseri umani ogni tanto le ciglia sbattono pensiamo a quante volte la scienza sicuramente sa se andiamo sul web quanti batteri di ciglia al giorno abbiamo te lo dice subito se non lo so 200 300 spara un numero forse di più d'accordo non penso che non esisterebbe computer che sia in grado di come dire controllare e numerare tutti gli atti sono tantissimi sono d'accordo ecco per cui è certamente un'operazione che va fatta in maniera approfondita dettagliata e personalizzata quindi adesso leggerò una serie di cose però questa cosa a mio avviso è tanto più produttiva quanto più viene fatta in maniera personalizzata vedremo che ci sono delle personalizzazioni quindi quello che leggerò sono una serie di esempi attenzione questa cosa è un accessorio ulteriore accessorio non dire cosa di poca importanza ma accessorio in senso etimologico cioè accede a una realtà sacramentale che è imprescindibile perché senza la confessione generale non si può fare niente tutto questo qui quindi l'atto più importante io l'ho sempre detto e lo ripeto lo ribadisco e che va fatto il meglio che possiamo è la confessione generale perché non c'è niente che abbia forza santificante quanto un tale sacramento ben celebrato la confessione generale si può fare una volta e per buone motivazioni solo per buone motivazioni si può anche rifare così come questi atti questa operazione si può fare una volta e nessuno vieta di rifarla nessuno vieta anzi capite che ogni volta che si compiono atti divini che si fa un giro di questo genere si mette in moto tale oceano di grazia insomma che dio solo lo sa d'accordo non lo possiamo comprendere d'accordo quindi quest'operazione è la terza cioè prima la confessione poi c'era venidenza e la riparazione nessuno pensi abbiamo detto nelle puntate che cosa non era divina volontà che questo sia una scorciatoia che bello adesso faccio un bel giro rifaccio tutti gli atti è finito il discorso 9 nessuno mai pensi che la divina volontà sia un qualcosa che bypassa o prescinde l'itinerario ordinario ascetico della santificazione come si vede dai primi volumi d'accordo i primi dieci volumi i primi dieci volumi si vede come Gesù fa fare a Luisa lo stesso identico cammino che hanno fatto tutti i sacrosanti i santi della chiesa cattolica con tutte le fasi purificativa illuminativa e unitiva con tutti quanti gli stati della preghiera fino al matrimonio al fidanzamento spirituale fino al matrimonio mistico tutto li ha fatto fare tutto quanto ha passato le notti oscure è stata martoriata dal demonio è stata bombardata dal demonio è stata vessata dal demonio tutto tutto a un certo punto la eleva capite quindi questa è come quando Gesù nel Vangelo dice non crediate che io sia venuto ad abolire io sono venuto a dare compimento quindi non sono venuto a dire ah bene buttiamo il vecchio testamento dieci comandamenti non servono più adesso del Vangelo non c'è niente di cattolico mai in questi tipi di pensieri quindi premesse queste cose andiamo a rifare gli atti allora cosa è quest'operazione di fare gli atti nella divina volontà vuol dire che fondendomi nel divino volere chiaro in un contesto di silenzio di preghiera di profondo raccoglimento questa è una cosa importantissima allora io volontariamente liberamente intendo per mezzo delle santissime umanità di Gesù e della Madonna che già nella storia hanno rifatto tutti i miei atti prendendoli dal Fiat Supremo in cui ab eterno ci sono rifarli rifare tutti i miei atti nella divina volontà ogni attimo atto della mia esistenza attenzione qui non si tratta di sostituire ma si tratta di rifare ex novo quindi presentare a Dio il film della nostra vita come se fosse stato come lui l'ha pensata è un procedimento capite allora questo o ci credi o non ci credi è lo stesso identico principio di quando tu dici vieni divina volontà nel mio mangiare non basta questo per vivere nella divina volontà lo sappiamo ma se io dico questo l'atto del mio mangiare che è un atto naturale fondendolo con il divin volere per volontà divina perché Dio stesso che ha voluto che questo succedesse diventa divino capito ma come sì qual è l'operazione che devi fare andarlo a prendere basta e farlo tuo queste sono operazioni volontarie capite cioè tutte queste cose se uno legge Sant'Ignazzo gli esercizi spirituali cioè noi siamo molto esperti oggi che sono sugli allenamenti sulla fitness sul jogging sul trekking andiamo facciamo la sillette facciamo i pesi facciamo il tapirulano andiamo a giocare a pallone e se stiamo allenati no? allora il corpo ha da muovere per stare in allenamento la volontà si deve muovere per stare in allenamento sono atti di nostra volontà che danno gloria infinita a Dio perché perché vanno a prendere ciò che Dio vuole per te cioè per darti una corona di gioia di pace di felicità immensa perché un atto nella divina volontà parte gli effetti che produce ma è produttivo di immenso bene per te e per tutti fin da qui fin da adesso d'accordo? allora vi leggerò alcuni esempi proprio concreti sono tanti sono e non sono alcuni ci vorrà sicuramente un'altra puntata oggi cominciamo a fare un po' il come dire il il trailer no? Gesù vita mia numero uno nella divina volontà tua voglio unire la mia piccola umanità appena concepita e poi nata alla tua piccola umanità appena concepita e appena nata chiaramente qui il soggetto è Gesù chi preferisce utilizzare come soggetto la divina Maria lo può fare chi vuole metterli tutti e due lo può fare perché entrambi hanno fatto la stessa identica cosa anche per noi Gesù vita mia nella divina tua volontà voglio unire la mia piccola umanità appena concepita e poi nata la tua piccola umanità appena concepita e appena nata così come tu nascendola hai fatto nella volontà del tuo padre celeste anch'io voglio nascere e prendere vita nella volontà di Dio padre tuo e mio per ripetere in me tutto quello che hai fatto e vissuto quando sei nato allora a differenza di Gesù e di Maria noi che abbiamo il peccato originale non abbiamo vissuto il momento del concepimento né della nascita come atti coscienti non sappiamo neanche i nostri genitori sanno con esattezza quando siamo quando siamo concepiti siamo stati concepiti salvo rarissime eccezioni d'accordo noi sappiamo quando siamo nati perché ce l'hanno detto loro non è stata la dinascita non lo sapremmo da noi stessi però vedete nella divina volontà anche quel gesto cioè il mio concepimento e la mia gestazione non sono stati atti così sono stati atti voluti dall'altissimo d'accordo e io posso santificare quegli atti andando a prendere il modo con cui Gesù e Maria hanno vissuto il loro concepimento nella volontà del padre e così come il mio concepimento e la mia nascita sarebbe stata se non ci fosse stato il peccato originale d'accordo quindi si parte proprio da questi atti come dire semplici come dire ecco allora poi voglio fondere con il tuo il mio prendere il latte da mia mamma e come tu ad ogni succhio dicevi immaginate questa scena di Gesù che prende il latte dalla Madonna ti amo madre mia così anche io intendo ripetere ad ogni goccia di latte che ho succhiato ti amo mamma del mio Dio e Signore e a te Gesù ti amo con la tua volontà che avete mai pensato tutti quanti noi siamo stati attaccati al seno di una mamma ma io ho bevuto il latte artificiale e non fa niente rifai il latte che ho bevuto al biberon come se fosse stata attaccata al latte di tua mamma quindi vedete anche proprio gli atti primi è presente che purtroppo noi facciamo gli sciocchi però purtroppo i nostri nemici cioè gli indiavolati e affini sapete quando cominciano a fare danni leggete e io ho saputo di alcune cose di questo genere dal momento del concepimento e alla nascita voi sapete che ci sono disgraziatissimamente alcuni posti in Italia dove si infiltrano in mezzo il personale che assiste ai parti e fanno delle cose schifose sui bambini proprio per cercare da quel momento di offrirli in qualche modo a Satana e sono operazioni che producono degli effetti negativi capite vogliamo fermarla a una cosa di questo genere la vogliamo fermare e che ne so se a me qualcuno non mi ha fatto una cosa che ne posso sapere io rifai l'atto della tua nascita nella divina volontà poi vediamo se viene se viene qualche satanista a fare qualche cosa chi vince se vince la volontà divina non so vince quell'imbecille lì vediamo chi vince rifarlo quell'atto rifarlo io sono sicuro che il demone soltanto a sentirle queste cose trema ma proprio trema perché qui non ci può proprio entrare quando trova davanti la divina volontà il demone mette la cuota tra le gambe e fugge il demone guardate ragazzi io ho già avuto molte noie da da questo soggetto e quando io ho visto un modo perché questo è un modo per tenerselo proprio lontano dai piedi d'accordo quantomeno in modo che non faccia tanti danni non mi è perso il vero d'accordo la madonna il demone se l'è messo sotto i piedi sotto i piedi e non solo perché era immacolata ma perché non si è staccata manco un istante dalla divina volontà e negli scritti c'è scritto negli scritti c'è scritto vabbè nelle opere di lui c'è scritto che chi vive nella divina volontà il demonio non lo guarda proprio cioè non si può manco avvicinare perché scappa scappa e se fosse successo qualche guaio io sono sicuro che con questa operazione puffete poi ancora abbiamo visto concepimento nascita allattamento ancora i primi vagiti noi abbiamo vagito tutti quanti noi abbiamo fatto un gay abbiamo fatto ue abbiamo fatto abbiamo mosso le prime corde vocali o ad ogni tuo vagito perché anche Gesù ha vagito Gesù ha vagito la madonna ha vagito beato chi l'ha visti e l'ha sentito i vagiti di Gesù e di Maria se volesse il cielo che in paradiso ci facessero vedere qualche bel film per vederle queste cose anche perché se anche se le vedessero dal paradiso sarebbe comunque uno spettacolo degno del cielo ad ogni tuo vagito voglio legare e fondere i miei vagiti per santificare anche il più piccolo filo di voce che è uscito dalla mia gola e farti compagnia nel tuo tenero pianto noi abbiamo la voce la nostra voce che è un dono divino e per mezzo della quale possiamo fare tanto del bene ma possiamo fare anche tanto del male deve essere santificata fin dai primi atti che ha compiuto i vagiti non sono parole ma sono suoni prodotti dalle corde vocali come può produrli un bambino e vanno santificati ancora c'è un'altra attività qui siamo ancora se ci fate caso ancora siamo nell'ambito delle operazioni inconsapevoli perché nella divina volontà ci sono anche le operazioni inconsapevoli questo Gesù l'ha rivelato a Luisa il battito del cuore il respiro abbiamo imparato la notte prima di andare a dormire io spero di sì perché guardate queste cose qui non sono dette tanto per dire ah che bello che bella catechesi che sia bella la catechesi non ce ne importa niente d'accordo ne intanto meno il soggetto che la fa che si chiami Francesco, Filippo, Filiberto non fa niente non fa cioè la cosa importante è il contenuto il contenuto bisogna metterlo in pratica cioè se tu vogliono andare a dormire ti dici signore mio voglio dormire nella tua volontà quindi il mio cuore continuerà a battere ogni battito non ti amo per te la circolazione del mio sangue continuerà quanto c'è la depressione di Sistole e di Astole tutti ti amo per te d'accordo voglio unire il mio sonno al tuo e dormire come hai dormito tu e come dormire la Madonna sulla terra vedrete come vanno via tutti gli incubi pure si pulisce tutto d'accordo e chiede al mio angelo custode dato che dal momento chiede e perderò purtroppo la coscienza perché così funziona almeno dopo il peccato originale funziona così non sappiamo come erano i sogni di Gesù di Maria che continui lui a dire il mio ti amo in continuazione a te e alla Madonna perché non ci siano interruzioni d'accordo e che l'attività cerebrale che si svolgerà dentro di me con tutti quanti i neuroni in fibrillazione che si stanno ricaricando siano tanti ti amo che ogni molecola dei miei neuroni vada a elevare il canto da lode a te questo io lo dico fuso nel Fiat Supremo e lo dico perché so che posso dirlo non è una favoletta non è come dire una poesiola che si dice prima di andare a dormire lo facciamo o no capite se uno ci crede lo fa e farlo non è la stessa cosa che non farlo allora quarta attività quindi concezione nascita allattamento vagiti il respiro poi ci abbiamo il respiro quanti respiri facciamo ogni giorno andiamo sempre su internet quante respirate quante emoti di ispirazione ed espirazione abbiamo fatto rifaccio gli atti nella divina volontà quanti ti amo vado a dire a Gesù e a Maria soltanto se ridico come sto dicendo di ogni respiro fin dal primissimo che ho fatto voglio farne una cosa sola con i tuoi respiri così da respirare fin da appena nato o nata come hai fatto tu l'aria purissima e santissima della volontà del Padre Celeste cioè non soltanto respiro nella divina volontà ma esprimo nella divina volontà la volontà che ogni modo di ispirazione sia un aspirare la santissima volontà del Padre Celeste ci sono anche come dire eh poi ci sono alcune applicazioni ecco di tutti quanti gli smartphone o gli smartwatch che fanno fare gli esercizi di respirazione questo per esempio erano molto bravi i monaci antichi la filocalia la preghiera del pellegrino russo loro pregavano in continuazione proprio al battito del respiro così guardate faccio una simulazione spero che si senta anche nell'audio all'inspirazione Gesù figlio di Davide abbi pietà di me peccatore e pregavano in continuazione così Gesù figlio di Davide abbi pietà di me peccatore e uno può dire Gesù ti amo Maria ti amo provate a farlo questo 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 esercizio si può anche fare realmente mi prendo un minuto e mi faccio un minuto di respirazione così quindi quando espiro dico mi riempio di Gesù e di Maria ma questo capite cioè non pensiamo che siano cose da cioè queste sono operazioni cioè Dio cioè Dio le vede queste cose qui non è che non le vede vede l'amore e l'intenzione con cui tu lo stai facendo capito tu ti riempi di Gesù questo gesto dell'inspirare e poi sfoghi ti amo cioè io voglio solo campare per amarti stai dicendo con questo gesto questo non è che ci vuole tanto sto granché cioè Luisa c'era la prima di inventare che ci vuole questa è una preghiera pure un bambino può capire queste cose allora quindi ogni respiro noi nell'atto preventivo cioè spero che noi lo recitiamo l'atto l'atto preventivo tutte queste cose ogni giorno le portiamo nella divina volontà per cui il respiro che sto facendo adesso ora è nella divina volontà perché io l'ho fatto stamattina l'atto 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 preventivo non è uno scherzo durante la giornata più si rinnovano e meglio è le nuvole che arrivano bisogna darci una spazzata via ma io l'ho fatto l'atto preventivo stamattina d'accordo? ancora quindi questi sono i respiri avanti quanto tempo ci abbiamo l'ultimo ogni sguardo che ho fatto dal primo fino all'ultimo che farò intendo legarli e fonderli tutti nei tuoi sguardi perché siano tutti divinizzati dai tuoi occhi e dai tuoi sguardi divini adesso qui con gli sguardi incontra lo sguardo innocente di quando eravamo bambini ma poi con gli occhi non si sa quello che possiamo aver combinato con gli occhi e qui ecco cominciamo le personalizzazioni dico una parola su questo e poi ci vediamo la settimana prossima perché il tempo sta scadendo allora quando ricomincia a rifare gli sguardi è chiaro lo sguardo bello di un bambino di un bambino innocente deve soltanto essere rifatto nel divin volere anche se potrebbe aver visto delle cose bruttarelle ma poi ne abbiamo fatti tanti di altro specie spero no spero credo e quelli vanno tutti quanti rifatti e qui è bene proprio specificare personalizzare anche rievocare nella memoria non molto diversamente da come si fa un esame di coscienza per la confessione generale quindi proprio ripensare in quella circostanza che ho guardato che ho fatto no signore amico sicuramente siamo proprio un altro che divina volontà io questa cosa la voglio distruggere d'accordo te l'ho già portata nel tuo sangue perché la tua la distruggessi voglio rifare quegli sguardi perché questa cosa sia come mai accaduta e tutto il male che ha prodotto quello sguardo cattivo sia completamente fulminato distrutto nel tuo divino volere ecco ecco quindi quando cominciano ad esserci degli atti che poi coinvolgono la nostra attività cosciente non pensate che basta pappagallo di fare queste cose qui nella divina volontà si impara ad essere creativi perché c'è un rapporto tra te e Dio d'accordo non c'è tu non fai il pappagallo di Don Leonardo o di padre Pablo o di Frappio di chi vi pare di tutti questi che parlano della divina volontà no cioè tu c'hai come dire un brogliaccio diciamo così e poi sei tu il protagonista e Dio parla con te e Dio ascolta te la vita che hai vissuto la sai tu come è stata d'accordo quello che hai fatto lo sei tu e sei tu che devi rifare i tuoi atti nella divina volontà ok ovviamente c'è un seguito alla prossima puntata per ora ci mettiamo a punto penso che ci vorranno un altro paio di puntate per esaurire bene l'argomento e poi andremo sui fuochi d'artificio conclusivi di questo splendido percorso nella divina volontà una santa serata e un santo fine settimana a tutti Ave Maria grazie a tutti e un santo fine